L'obiettivo del Ministero è chiarissimo, bonificare nel più breve tempo possibile, ovviamente rispettando la legge e far sì che chi è il responsabile dell'inquinamento paghi per l'inquinamento. Il Presidente Marsilio, la Giunta regionale e qualche sindaco purtroppo sono più impegnati a fare opposizione al Governo nazionale che governare Regione Abruzzo. Io invito il Presidente Marsilio e la sua Giunta a collaborare con il Ministero per trovare soluzioni. I 50 milioni di euro che pretestuosamente vengono messi in discussione, in realtà in discussione non sono, tanto è vero che il Sottosegretario Morassutta ha chiarito che sono comunque destinati all'intero sin di bussi che ricordiamo non essere solo bussi ma ricomprendere tante aree come appunto Bolognano e Piano d'Orta. Io mi auguro tra l'altro che oltre questi 50 milioni di euro vengano stanzate anche più somme perché insomma per la bonifica dell'intero sin saranno necessarie sicuramente maggiori somme e sono certa che l'obiettivo del Ministro Costa è quello di trovarle e di bonificare queste aree.